L'Antico Testamento L'Antico Testamento, quando si parla, ci dice esattamente ciò che ci vuole dire. Nulla di più e nulla di meno. Così facendo scopriremo delle cose molto diverse. Alle parole della Torah si possono attribuire anche 70 significati diversi. Ma ce n'è uno che non possono non avere ed è il significato letterale. E noi a questo ci atterremo. L'Antico Testamento scopriremo è un libro di storia. L'Antico Testamento Allora, nonostante ci sentirei che non ho detto che non sono un ufone, cioè non studio gli ufone, non studio feromano ufone, non ho mai visto un ufone di la mia, non ho mai visto neanche un ufone, sto imparando queste terminologie perché da quando ho pubblicato questo libro ovviamente sono stato sommerso dalla notizia della relativa l'ufologia, ma io sono un traduttore di ebraico antico, cioè un traduttore di ebraico mafometico, da dieci anni circa l'ho tradotto per le edizioni San Paolo che hanno pubblicato 17 libri di traduzioni letterali dell'Antico Testamento, questo qui è il penultimo, dove il mio lavoro, cioè il lavoro che mi viene richiesto è questo, cioè io devo spaccare le parole ebraiche nelle singole componenti, fare la traduzione letterale, quindi senza interpretazione, devo controllare che il testo ebraico sia scritto correttamente, devo controllare che il testo greco sia scritto correttamente e devo fare e pubblicare l'analisi filologica di tutte le forme verbali, quindi tutto ciò che sentirete arriva da questo, cioè dal fatto che traducendo ho cominciato a cogliere delle cose e a stupirmi di queste cose e un anno e mezzo fa ho detto beh adesso comincio a raccontarle, ovviamente appena pubblicato il libro ho perso tutti i contratti di traduzione della buona edizione di San Paolo, ma mi capisco se non ce l'ho avviato con loro, se lo possono fare diversamente, per esempio in questo libro qui il mio nome ha fiaccato quel di Monsignor Ravasi, come sapete è il Presidente del Pontificio Consiglio per la cultura del Vaticano, che ha autorizzato la pubblicazione della sua traduzione, diciamo quella teologica tradizionale a fronte della mia, e adesso ovviamente un pochettino di fastidio non avere gli eroni affiaccati, c'è, però ormai mi hanno scritto e non li possono ricercelare, ovviamente non ne scrivono di più, non hanno già altri due libri nei tradotti, ma non li stanno più pubblicando, hanno Giosuè e Giudici, ma quelli non usciranno più, pazienza, quindi io sto continuando a fare una perconto mia. Allora, tanto per capirci, quando si, su un discorso molto delicato, io non parlo della Bibbia, cioè vi parlo del libro sul quale sono fondate tre religioni, ciascuna dotata di parecchie teologie, io non ho nessuna verità da sostituire alle verità di fede, questo deve essere chiarissimo. Qualunque cosa io dica non vuole assolutamente andare contro la fede di chiunque. Se un giorno si dimostrasse, come presuntuosamente penso, che ciò che c'è scritto nel libro, ciò che c'è scritto nel nuovo libro che è finito, adesso che è molto più voluminoso di questo, e le cose che raccontano le conferenze, come anche sono fuori dai due libri, se un giorno si dovesse dimostrare che è vero, per un uomo di fede, semplicemente vorrebbe dire che tutto questo che è avvenuto in questo mondo fa parte del disegno providenziale di Dio. Cioè io di Dio non so nulla, ovviamente non ho le certezze degli nomi di fede, ma non ho neppure le certezze degli altri. Noi pensiamo alla Bibbia come ad un testo che è stato fissato mille anni fa, quello è solo quello che poteva essere. In realtà la Bibbia che possediamo noi, sulla quale lavoriamo e su cui adesso vi racconterò delle cose, è una Bibbia che è stata chiusa tra il VII e il IX secolo d.C., cioè tra il 600 e il 800 d.C. diciamo quando qui in Europa regnavano prima i tarolingi e poi i tarolingi, quindi quando Carlo Magno stava costruendo il suo sacro romano impero, sul lago di Tiberiade una famiglia, che era la famiglia di Moshez Benaroni Benasher, definiva la Bibbia così come la conosciamo noi. Questa famiglia era in contrasto con altre famiglie, loro rappresentavano la scuola di Tiberiade, c'era la scuola palestinese, quella samaritana, quella babilonese, hanno vinto loro. E noi possediamo la Bibbia che hanno costruito loro. Se avessero vinto altri avremmo una Bibbia potenzialmente diversa. Perché? Perché la Bibbia iniziale è stata scritta con una successione di consonanti, quindi il lavoro che hanno fatto questi qui, che si chiamano i masoretti, cioè i custodi della tradizione, intanto è stato quello di definire le parole, cioè spaccare una fila di consonanti e definire le parole, che possono essere spaccate e definite in tanti modi diversi. Il secondo lavoro che hanno fatto è stato quello di inserire le vocali che non c'erano. E inserire le vocali significa veramente inserire, introdurre il significato delle parole. Un problema che questi signori non avevano era il problema linguistico, cioè non se lo sono mai posti. Allora interessava introdurre nel testo il loro cosiddetto e oggi. Così ha il fatto. Quindi una cosa che dobbiamo sapere è che l'unica certezza che abbiamo è che sappiamo di non sapere. Ok? Questo è un dato di fatto. Non sappiamo neppure come fosse localizzata la Bibbia nel momento in cui è stata scritta. Nel momento in cui si verificavano la maggior parte degli eventi della Bibbia, soprattutto quelli fondanti, l'ebraico non esisteva come lingua. Quando molti nomi venivano pronunciati, l'ebraico non esisteva. Mosè non parlava l'ebraico. Nel deserto non parlava l'ebraico durante l'Egeto. Se vogliamo pensare che parlassero qualche forma di lingua semitica, cosa che dubito, parlavano da qualche forma di amoreo. Poi hanno cominciato a parlare forse da qualche forma di armato. e poi un paio di secondi dopo si è formato l'ebraico che era in realtà un sud felice o trasformato. Quindi voi capite che l'unica certezza è che sappiamo di non sapere. Con questa consapevolezza che si dà una grandissima serenità, ascoltiamo il testo. Ed è però una consapevolezza che dovrebbero avere tutti quelli che si occupano della Bibbia, compresi i teologi, compresi cabalisti. Cioè tutti quelli che dicono, ti dico io come stanno le cose. Quindi io non ti dico come stanno le cose. Io vi racconto che cosa c'è nel significato originario delle radici consonanti ebraiche perché è il mio lavoro. E' stato per contratto, cioè era, non che fosse il mio lavoro perché non si viva le traduzioni dell'ebraico, cioè quelle cose che si fanno di no. Ma era, quindi il mio compito preciso era quello di, appunto, cercare il significato originario, quindi ovviamente non solo i dizionari di etimologia ebraica e amica curati dai rabbini o pubblicati o in Israele o negli Stati Uniti. Allora, facciamo così, perché facciamo una taglina, quindi saliamo sul ruah dell'Elohim, cioè sul vento dell'Elohim, quello che nella Bibbia si chiama, viene tradotto con il spirito di Dio, ma il termine ruah, non significa spirito, significa vento, o tutto ciò che vorrà rapidamente nell'aria producendo vento. Poi l'elaborazione teologica successiva ha portato, quando si è creata la figura di Dio, ha portato quindi a attribuire a ruah il significato di spirito, ma in realtà questo proprio non c'è. Faccio una cosa, siccome c'è una... faccio un disegnino sul foglio e poi me lo fate girare, eh. Vi faccio vedere come era rappresentato il ruah nei pittogrammi sumeri, perché la parola non è ebraica, ma è di origine sumera. Quello è il pittogramma di chi ha visto il ruah iniziale, da cui poi è derivato appunto il ruah degli... possiamo girare. Quindi è una cosa, adesso la vedrete, che non sappiamo che cos'è, diciamo che non sappiamo che cos'è, perché così siamo tranquilli, che sono ovviamente stati messi sull'acqua. Su questo non ci sono dubbi. Siccome non sappiamo cos'è, ma che abbiamo, prendendo in prestito il nome direttamente dal Vaticano, così non ci sbagliamo. Se voi leggete le ultime edizioni del Lexicon Recentis Latinitatis, pubblicato dalla libreria dell'Italia Vaticana, dove inseriscono il neologismo in latino, voi troverete che il Vaticano ha inserito Navis Sideralis, cioè astronave, ha inserito Aelia Navis, cioè aeronave, ha inserito Aelius Iator, cioè astronauta, e ha inserito una sigla, RIV, che significa res inesplicate volantes, cioè UFO. Allora, quella è una liga, adesso vedete, è la che abbiamo veduto, cioè una res inesplicata volantes, che è quella che è stata rappresentata da chi all'inizio raccontava gli eventi di questi qui. Chi ha visto prima, chi adesso vede questo, capisce che si tratta di una roba che non sappiamo che cos'è e che vola sull'acqua. Se avete in mente l'inizio proprio della Bibbia, quando si dice che in principio Dio creava il cielo e la terra, ricordate anche che c'è scritto che il Ruach degli Elohim, cioè lo Spirito di Dio, alleggiava sull'acqua, solo che il Ruach è quella roba lì. Alleggiava viene indicato come un termine, come un participio, che significa, è usato oggi in altre parti della Bibbia, e identifica il volo tipico dei rapaci quando si fanno rascoltare dalle correnti, quindi quando non muovono le ali. Quindi il Ruach degli Elohim, che i Suveri rappresentavano così, era una cosa che all'inizio, in principio di tutto, volava sull'acqua senza muovere le ali. Quindi in ebraico abbiamo la descrizione di ciò che i Suveri invece si hanno rappresentato pittograficamente. Non ci sono dubbi del fatto che stanno parlando della stessa cosa. Allora, da ciò che si ricava dalle traduzioni letterali della Bibbia, quindi dalla definizione del significato digitale delle radici consomantiche, la Bibbia ci dice che noi siamo stati fatti con a immagine, a somiglianza, di Dio. Quando dicono di capire tutti, o c'è bisogno di studiare l'Elohim è il termine biblico che viene tradotto normalmente con Dio, in realtà è un termine plurale, parente, forse, perché dal punto di vista dello studio della filologia semitica le cose non sono così semplici, come dice, viene spesso affermato, perché non è detto che l'Elohim sia esattamente il plurale di E. Potrebbero essere due forme primitiche, vabbè. Allora, quando si parla di Elohim, diciamo quella roba lì che tradizionalmente si identifica con Dio, ma sicuramente invece nella Bibbia vuol dire molte persone, molte persone, allora dice tutto che noi siamo stati fatti, la traduzione tradizionale, a immagine e a somiglianza. In realtà l'ebraico masoretico ci dice che noi siamo stati fatti a somiglianza, ma con qualcosa che contiene l'immagine degli E. Con qualcosa di materiale che contiene l'immagine degli E. e che è stato tagliato fuori. I visionari di quello curati da E. Ricolo di più, Ricolo di più, Ricolo del Selem, veriva dal verbo san, che significa tagliar fuori. Quindi in realtà la Bibbia ci dice che noi siamo stati fatti con quel quid di materiale che contiene l'immagine degli Elohim e che è stato tagliato fuori. Ora, tutti noi immediatamente sappiamo a che cosa ci si riferisce quando diciamo che si prende qualcosa di materiale che contiene l'immagine di un individuo e che è stato tagliato fuori. E indietro. Quindi, per sicuro la vita, questo racconto biblico è la sintesi del racconto delle tavolette sumere, in particolare delle Elohim, cioè quando assumo il racconto dell'inizio, dove i sumeri però sono molto più precisi della Bibbia. Ma che i sumeri che mai si sono sognati di creare una religione, mai, hanno fatto un Tempio, mai hanno parlato di Dei, nel senso che lo intendiamo noi, ma parlava sempre di questi individui di cui ci ha parlato prima molto bene di Assunusso, per questi individui avevano indubbiamente rispetto, per questi individui avevano indubbiamente verso questi individui anche Chino e Pauga perché questi erano ovviamente, come si può comprendere, molto più potenti dal punto di vista della conoscenza e della tecnologia. Però non li consideravano divinità, così come poi è stato attribuito e successivo Neis. I sumeri non hanno fatto subito un Tempio, nel senso che lo intendiamo noi. Quindi i sumeri, che sono molto più precisi e che appunto sapendo che questi non erano degli dei famigli, non si facevano stupori di raccontare anche i fallimenti di questi qui. E loro ci dicono, con maggior precisione rispetto al pensiero monoteistico, poi che è stato insegnato dalla Bibbia, che questi qui hanno fatto un sacco di tentativi sbagliati prima di arrivare a produrre lo schiavo giusto. Cioè, hanno sbagliato un sacco di volte. Chi ha seguito, anni fa, il discorso della clonazione dei decoratori? Ecco, noi a un certo punto esce la notizia sul giornale che quei laboratori dell'Imburgo hanno clonato anche i decoratori. Non ci dicono che hanno fatto circa 240 pecore sbagliate. che è quello che non è presentato, eh? Cioè, hanno fatto, ma è compresibile, hanno fatto 240 esperimenti sbagliati e poi sono arrivati alla piccola donna e diventa ovviamente il prodotto, no? Stessa cosa fanno i sumeri con i loro presunti dei. Ne hanno fatto uno che non tratteneva l'Ulina, ne hanno fatto uno che non riusciva a chiedere gli occhi, ne hanno fatto uno che aveva la corona del federale storta, ne hanno fatto uno senza organizzi evitali, ne hanno fatto uno che non riusciva a mangiare, non mi ricordo più netto a tutti, ma non ha importanza, ma comunque ne hanno fatti un sacco di sbagliati. Tra l'altro uno, o meglio, è veramente combinazione fatta proprio con ciò che è stato estratto dal sangue di uno dei capi, quindi pensiamo un po'. Cioè, un esperimento peggio di uscito è nato proprio con il sangue di E. In Italia a un certo punto fanno la prova addirittura con il sangue di uno dei grandi capi, dei due grandi capi loro, quindi pensate, da lui nasce, quindi proprio uno sbaglio completo, un essere peloso, con la gola chiusa, gli occhi perfetti, le costole contorte, la spina dorsale paralizzata, il cuore e la testa e l'intestino sofferenti, le mani incapaci di sollevarsi. Queste traduzioni che io riporto qui non sono di Siccin, perché ovviamente Siccin è importante, ma bisogna andare oltre, nel senso io seguo, per quanto riguarda la sumerologia, le traduzioni degli accademici. Queste qui sono le traduzioni di Giovanni Pettinato, che è un'autorità mondiale, era perché è morto, e quindi sono le traduzioni di Giovanni Pettinato, quindi non di un sumerologo alternativo, ma di un accademico. Un italiano. Sì, tra l'altro è il Presidente della Commissione Europea per la formazione di un dizionario di sumero, quindi autorità mondiale indiscusa. così, ma con il mio nessun popolo è così stupido, da inventarsi dell'indente quel tipo, adorarli e al tempo stesso dire che vabbè, questi qui andavano per tentativi perché non è che facessero così. Evidentemente ci hanno raccontato le cose, ovviamente, con gli strumenti, gli unistici, i concettuali, i culturali di cui risuolevano, ma ci hanno raccontato le cose così come sono probabilmente andate. La linea ha fatto una sintesi. Anche, ha fatto in due attesi. E voi sapete che è una creazione di una formazione dell'uomo, perché è una creazione proprio sbagliata come termine, ma è una formazione dell'uomo, cioè questo è l'acqua di lui, e poi c'è l'altro del dio apposentato come l'assario, che agisce con l'argilla. Ora, io non so se ci sono dei genetisti, tutti gli studenti di biologi. Tutti sai qual è l'importanza dell'argilla come catalizzatore per i processi di combinazione degli acidi nucleici, cioè DNA e RNA. E quindi il secondo racconto della tradizione, dice, è un racconto mitico dove Dio viene rappresentato come l'asario, perché non è affatto un racconto mitico. È lo stesso racconto visto dall'altra parte. Mentre il primo racconto ci dice che noi siamo stati fatti con uno celebre degli eroini, cioè con il DNA degli eroini, il secondo racconto ci dice che gli eroini sono intravenuti nell'afar, cioè nell'acqua, nell'argilla che era qui sulla terra, e questo ha due significati, perché questo affatto arriva dall'accadico TIT che indica sia l'argilla sia ciò che contiene la forma, perché l'argilla è un materiale che assume e contiene la forma. Quindi vuol dire, questo secondo racconto è visto dal punto di vista del DNA omido che era presente qui sulla terra. Quindi noi siamo stati fatti con il celebre di eroini che è stato inserito nell'afar, cioè nel ciò che contiene la forma che era già presente qui sulla terra, cioè il DNA omido. Quindi due racconti che vengono considerati tradizionalmente separati perché difficilmente spiegabili alla luce di una visione teologica spiritualista, letti da questo punto di vista, letti soprattutto in parallelo con i corrispondenti racconti sulle che vi si raccontano esattamente la stessa cosa vista dagli due parti. Non c'è nessuna contraddizione, anzi c'è completamente. La cosa che ci interessa di più è l'albero della conoscenza del bene e del male, perché poi il racconto prosegue come se loro effettivamente avessero mangiato di questo frutto. Allora quando io tanti anni fa appunto traduscevo la Bibbia e quindi pensavo ovviamente quindi con la mentalità di Dio e Nato della nostra cultura e quindi l'albero della coscienza del bene e del male sicuramente sarebbe il momento in cui l'uomo ha cominciato a distinguere tra bene e male, cioè ha cominciato a capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che cosa è lecito e che cosa è no. Cioè in quel momento dell'uomo sarebbe entrata la cosiddetta morale fondamentale, l'etica naturale, che è stata iscritta da Dio nel cuore dell'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Traducendo la Genesi io ho detto, però che strano, quest'uomo qui non c'è. Non c'è. Però ho detto, vabbè, io continuo a essere l'ultimo dei nessuno e quindi va bene, ok, l'ho messa in un assetto, è finito. Ma il concetto della distinzione non c'è. Dicembre 2009 a Venezia, allo Spineo Veneto, si tiene un convegno di psicanalisi. Parlano del psico-terrapeuta esogliale, ma la Liga interviene a uno schiuzzato, già Presidente dell'Unione delle Comunità Esalitiche italiane, eminente bibliste e breve, ovviamente psicanalisi, è chiaro che le psico-terrapeute parlano del concetto del bene del male, senso di colpa, la distinzione, l'amora naturale, iscritta alla cura di un uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Interviniamo sul chatto, ringrazia le psico-terrapeute dicendo l'ottima analisi, eccetera, dice solo che questa roba nella Bibbia non c'è. Io ho fatto un sentino sulla sedia, perché se lo dico io, ovviamente, non conta l'uno, non ce lo diciamo sul chatto, forse. Dice, non c'è. Non è vero. In quel momento lì non c'è stata nessuna distinzione, perché, io me la racconto per il fatto appunto che quando si fa delle distinzioni non c'è, quindi non c'è distinzione, lì che noi, quando Adamo e Eva hanno fatto una certa cosa, non fa altro di fare una constatazione di fatto, cioè lui sta condannandovi. Dice, voi avete fatto una scelta. adesso sappiate, che a seguito di questa scelta, sulla quale io non ero d'accordo, mentre un altro, che il serpente di cui ci parlava di Osorius prima, voleva che quella scelta fosse fatta, anzi, è intervenuto per facilitarla, uno dei Watchers, è intervenuto, dice lui, quello invece che non lo voleva, dice bene, adesso l'avete fatta, allora l'ha messo fuori di qui, sappiate che andando fuori di qui, però voi sperimentate, gli aspetti positivi e negativi di questa scelta. La nuova fondata, è quella che si chiama una sentenza post-ventum. Per banalizzare, ma non è una banalizzazione perché è un esempio molto razzante, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Il pedalare, non è una condanna per chi sceglie la bicicletta, ma è direttamente con l'altro altro, cioè, uno non può salire sulla bicicletta e non pedalare. Quindi, quando qualcuno invece ha voluto la bicicletta, adesso pedala, non fa altro di fare una costruzione di fatto, che è esattamente ciò che lui va a Mosuzza, dice qui, io non ha comodato nessuno. Quindi dice, voi avete fatto la scelta, e la scelta sostanzialmente è avete voluto capire e sperimentato che voi, dal punto di vista della ricicletta siete diventati autosufficienti rispetto a noi, mentre prima a creare uno schiavo di cui parlava di oggi ci pensavano di Iemolima Lunati, invece da questo momento in avanti una nuova specie è diventata autosufficiente, bene, allora fuori da questo territorio protetto perché qui vivono quelli che diciamo noi, voi andate a vivere per conto vostro, capirete che tra l'invento di questa scelta non c'è soltanto la libertà e il piacere di Iemolima, se il fatto che vorrei avanti, se volete mangiare, voi lo dovrete procurare, e tu Eva, capirai che farei figli fa male, ma capirai che farei molti contanno per questo, capirai, sperimenterai Iada, il verbo ebrato, avrai conoscenza del fatto che la nuova situazione comporta elementi positivi e elementi negativi tu, ma, ra, cioè conoscerete sia le parti belle sia le parti brutte di questa vostra nuova situazione ma lo sulzato, che ovviamente è molto più su, è andato ancora più avanti, dice che il termine era col quale si indica la parola male non ha assolutamente nulla a che vedere con il concetto del male, con l'etica, ma gli guarda, attenzione, la fisiopatologia del corpo umano, cioè, l'Elohim mi dice usciti da questo territorio recentato e protetto in cui noi vi abbiamo messi e in cui noi vi stiamo tenendo usciti di qui scoprirete che si può stare male intanto quando avrete fame dovrete cercare il cibo mentre qui vi sono andate a tavola e quello che comincerai ovviamente a diventare proibili e capirai che sarei finito male punto non c'è nessuna distinzione non c'è l'etica non c'è morale non c'è condanna c'è una sentenza corso elettrico se sei salito in bicicletta non vuoi non pedalare si quindi noi già da questo punto di vista di nuovo tranquillizzanti tranquillizzante non stiamo vivendo il frutto di una condanna che ci arriva dai che lo dobbiamo portare non stiamo pedalando perché i nostri progenitori hanno voluto salire in bicicletta Amos non sa quindi bisogna riflettere su queste cose perché effettivamente cambiano cambiano tutta la storia un'altra curiosità che si verifica in quel momento lì così parlo un attimo della storia che si verifica in quel momento lì è questa conosciamo tutti la storia di Adamo Eva Caino Abele quindi Caino a un certo punto uccide Abele fanno un figlio che si chiama Sette e un figlio che si chiama Eros e la Bibbia dice che al tempo di Eros si cominciò ad evocare il nome di Eros perché tanto vuoi dire che allora Adamo Eva Caino Abele e il primo figlio Sette non invocavano il nome di Eros perché se cominciano con il primo ipote vuol dire che quelli di prima non lo chiamavano non possiamo sapere se non lo chiamavano perché non lo conoscevano o perché non ne avevano bisogno perché era lì presente e che quindi quella diffusione invece è cominciata con Eros certo è che in quel momento appunto come abbiamo detto prima di sicuro l'Ebranchio non esisteva quindi in che lì ha detto questo qui il suo nome Eros va a sapere il problema è che quando questo qui lo ripeto e adesso facciamo un salto eh Mosè e il suo popolo nel deserto del Sinari e quindi appunto ci siamo un po' nel deserto adesso che ci sono alcune cose molto interessanti allora quando gli Eros sale sul monte Mosè sale sul monte e dice se ne senti un po' allora noi stiamo stabilendo un patto io devo cominciare lì là sotto insomma che a seguire te tra i tanti e noi possibili cosa di cui Mosè era assolutamente consapevole Mosè tutto era meno che monoteista non era pure un monolata cioè lui sapeva che questo qui era uno dei tanti con cui si potevano stabilire dei fatti e lui aveva scelto questo qui diciamo che si era scelto a ricerca allora dice io devo raccontare con i tanti da sotto che sono la che aspettano notizie che loro devono seguire te per molti anni dice dove parlano ti chiami? almeno quello e lui dice la famosa frase che viene adotta filologicamente in un sacco di modi diversi io sono chi sono io sono ciò che sono io ero chi ero io ero ciò che ero io sarò quel che sarò oppure io sarò quel che ero potendo sbizzarrirvi e cercare gli studi vado a dire dai ci subiti a tutti gli esegenti possibili immaginabili ci sono tutte le traduzioni possibili quindi filologicamente sono tutte vede allo stesso modo e dice comunque il mio nome è quel suono lì che noi ricordiamo come io è e quindi se volete mi ricorderete così ma quando lui l'ha detto a Mosè quel suono l'evaldo non esisteva quindi in che lingua ha detto? la sua? in quel momento lì di sicuro Mosè che era uscito dall'Egitto con gli altri che erano in Egitto da secoli di sicuro parlava la lingua che si parlava in Egitto e come ho detto prima forse se vogliamo proprio precedere ma avrei dei dubbi parlavano da qualche forma di Amoreo noi abbiamo questa parola che è stata scritta circa quattro secoli dopo con le consonanti dell'ebraico non sappiamo come fosse localizzata al momento nessuno al mondo lo sa come fosse localizzata ai tempi dell'inizio noi sappiamo come è stata localizzata ai tempi di Carlo Mario su questa parola localizzata di cui non sappiamo nulla non sappiamo che lingua è stata pronunciata non sappiamo quindi come è stata recepita perché poi in casa scritta seguono i luoghi una lingua che non esisteva quando quella parola che non è stata pronunciata su tutto questo si sono scatenati fiumi di studi per cercare di capire esattamente che cosa voleva dire questo qui quando ha detto Yahweh il discorso è questo questo qui non deve dire assolutamente nulla cioè se io ricevo un ordine superiore e devo andare in Papua in Nuova Guinea a prendere contatto con uno dei tanti popoli del territorio per stabilire una certa cosa insomma quindi costruire un sistema che aveva un regno eccetera e questo qui il rappresentante il portavoce di questo popolo che io mi scendo a un certo punto mi dice si va bene fai esattamente il progetto come ti chiami tu io lì io mi amo che in Papua Nuova mi ne amo vuol dire un cavolo di nulla se lui ha una lingua consonantica scriverà MR secoli dopo esegenti esegenti del posto si metteranno a riflettere ma chissà che cosa avrà voluto dire quello là quando ha detto questo suono e chissà qual'è il suono eccetera e cominciano a introdurre dei significati secoli dopo arrivano altri esegenti di popoli esterni a questo e anche loro si esercitano nel tentativo di trovare il significato ad un suono che io ho detto in italiano che i nuova guineani hanno riportato con due consonanti loro un suono che della loro lingua assolutamente nessun significato qui c'è l'angravante che quando il suono è stato pronunciato non esisteva neppure la lingua nella quale è stato scritto quindi immaginate un po' che tipo di certezze si possono ricavare sul nome Yahweh sia dal punto di vista della filologia sia dal punto di vista di quella che è anche molto diffusa della diciamo così dell'esercitazione metafisica esoterica iniziatica su questo nome che è diventato il nome non è affabile eccetera 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 forse non dovrebbe dire assolutamente nulla sarebbe assolutamente come dire Mauro in un uomo a guineano queste sono cose sulle quali sarebbe bene riflettere voglio sapere capire che l'unica certezza che abbiamo è che sappiamo di non sapere e quindi tutte le verità presunte e quelle che rimanero presunte sarebbe bene che rimanessero presunte a lei offre sapete il sacrificio il prodotto del suo lavoro quindi l'agnello che io offre le zottine perché lui si occupa di orticultura io lei questo qui che appunto si è poi fatto chiamare così dice la Bibbia teneva in forte considerazione l'offerta di avere e non considerare l'offerta di carino intanto qui c'è una prima constatazione evidente a quel Dio lì che secondo me appunto non ha nulla a che vedere con il Dio unico trascendente spirituale universale di cui non so nulla a quel Dio lì le intenzioni non interessavano perché ovvio quelle intenzioni di Abel e le intenzioni di Caino erano esattamente le stesse fargli un piacere Caino aveva centriore e zucchine Abel aveva gli amielli ma le intenzioni erano esattamente le stesse ma a lui non interessava questo così come non gli interessa che adesso ci arriviamo quando i due figli gli arombe gli vanno a fare un'offerta particolare lui le uccide immediatamente adesso tra poco pagheremo forse da quelli hanno uccisi di certo a lui le intenzioni non interessavano quando nel deserto questo Elohim si fa costruire quella che noi consideriamo il tempio che in realtà era una vera e propria dimora costruita sul modello di quelle che si sono raccontate dai shimeli nell'Ether dai shimeli le abitazioni che questi si erano fatti costruire nelle quali lui si era fatta costruire una nel deserto fuori dall'accampamento per seguire in prima persona questo popolo che lui stava conducendo tentando di condurre un'opera di conquista di un territorio su cui lui aveva ricevuto dai capi l'incarico di governare lui dà tutta una serie di disposizioni che poi nell'adorazione teologica religiosa ha considerato disposizione di ordine spirituale eccetera nulla di tutto questo ma quindi è di una concretezza affascinante voglio dire sia quando la leggo la traduco le parole mi ne sembro finito perché è di una bellezza incredibile allora lui diceva tutta una serie di cose poi se mi rimetti bene ricordate non è una serie di 10 comandamenti perché è una cosa se mi rimetti che se ho tempo non so allora lui dice che gli devono bruciare certi prodotti una cosa che mi ha sempre studiato quando appunto traducevano il vitico era un concetto chiarissimo che il bruciare questi prodotti cioè il produrre questi fumi non ha un significato simbolico proprio con celata questi fumi gli dovevano entrare nel naso questo è chiarissimo della Bibbia cioè lui li doveva sentire doveva sentire gli odori che in caso doveva sentire la puzza e con la puzza intendo quel sacrificio particolare che lui chiedeva che si chiama holocausto per cui un animale doveva essere bruciato interamente compreso il grasso nelle Bibbie tutte leggerete sempre ogni volta che si parla di questi odori che si è scritto aroma gradito all'erome ma la Bibbia non dice questo la Bibbia dice sempre ed era una cosa che mi scopiva fino a quando altri non mi hanno dato le spiegazioni che adesso vi do la Bibbia dice che quello era un odore tranquillizzante un odore sedante per l'erome su questo non ci sono possibilità di interpretazione un po' proprio quello quindi questo odore lo tranquillizzava io ho detto questa cosa per la prima volta l'anno scorso al convegno di Roberto Pinotti a San Marino perché mi rendo conto che è una cosa come dire non ci vuole accettare ma è difficile da sentire oggi a Dio che vuole sentire esattamente la puzza della taglia bruciata l'ultimo mi metto con la perola di San Marino poi due settimanali al persiano sul regno del Gauss all'otel bagnolo di Firenze mi ha ripetuta e ho detto al pubblico io vi dico questo ma io non so spiegarvi perché perché io racconto ciò che leggo nella Bibbia quindi racconto anche se non io volete ciò che non capisco questi anni mi hanno fatto nulla ne ho scelto per altro possibilissimo di cui io ve lo racconto e dopodichè ognuno mi fa quello che vuole ma nella Bibbia mi si è scritto così e poi io ho raccontato anche un'altra cosa che adesso vi dico finita la mia relazione adesso e interviene il fisico vedruccio io su questo abbiamo ricevuto una segnalazione della riva Greppa che mi ha detto leggiti questo articolo che parla di una cosa che ha fatto la NASA cioè la NASA ha commissionato all'Omega in Bridges che è un'azienda profumiale inglese Stephen Pierce la produzione della essenza che riproduca esattamente l'odore della carne bruciata perché la introducono nelle tute degli astronauti nel momento in cui si intervono nell'acqua per fare le esercitazioni che in assenza di gravità e la riproducono perché gli astronauti devono abituarsi a sentire quella puzza perché nello spazio la sentiranno molto spesso ed è una cosa che hanno raccontato gli astronauti soprattutto quelli che escono dalle radicelle che la puzza di carne bruciata è fortissima diciamo allora che nello spazio aumenta la spavazione della parte superficiali della pelle quando queste escole si muovono le mutte e producono sfragamento si spaccano le cellule quando rientrano nella navicella e si spogliano le cellule permette l'assenza di gravità nella navaria entrano in contatto con l'angosfera artificiale e schiossidano immediatamente producendo un fortissimo droga di carne bruciata un medico mi scrive dicendo ho sentito quello che hai detto e mi hai aperto gli occhi su tutta la serie di cose che ho dedicato nella traduzione questo qui studia come informe per le tavolette sumeriche in cui si dice che ogni volta raccontano le sumeriche loro bruciavano della carne quelli che abbiamo visto prima gli ammonati che corrispondono agli eroini della biglia arrivarono sulla carne con le mosche cioè fortissimamente attratti dalla punza della carne bruciata per questo medico abbiamo dato uno studio particolareggiato che adesso verrà tra un esodo e due pubblicato anche su una della rivista di Roberto Pinotti io avevo fatto una sintesi per il nuovo libro facendomi il disegno delle strutture molecolari delle trasformazioni che le sostanze grasse subiscono quando erano bruciate alla griglia sostanze antipatabiesi e facendo vedere come assurano esattamente la struttura molecolare delle endorfine che sono quegli armoni che il nostro cervello fa produrre per tranquillizzarci quindi se mettiamo insieme tutte queste cose qui capiamo che l'Elohim apprezzava la puzza dell'agnello di Atene non gli interessava niente l'odore dei cetrioni e degli zuccini chiedeva che gli venisse bruciato quando lui entrava nel Tempio Deina quindi nella sua dimora chiedeva che gli venisse bruciata della carne animale bruciata completamente perché quello era l'odore che lui voleva sentire questo nella Bibbia è estremamente concreto cioè se lo leggete attentamente ripeto non c'è bisogno di traduzioni letterali coglierete con l'assoluta tranquillità la fisicità di questo e poi fa produrre un'altra miscela fatta di tre sostanze vegetali della pochiglia di un mollusco che devono essere friturata e bruciata e queste sostanze vengono tuttora utilizzate diciamo nella medicina naturale per regolizzare il respiro vengono usate per gli attacchi di asma o l'ansia quindi tutti questi aromi venivano prodotti e lui li ha chiesti espressamente quindi si tratta di interpretazione perché davano tranquillità cioè avevano un effetto sedante su questo personaggio anzi su questi personaggi perché le stesse cose ci raccontano ci raccontano i suoi la cosa bella è che quando ho tradotto questo io nulla sapevo degli astronauti nulla sapevo della neurofisiologia nulla nulla quando siamo in cima a Siladi e Mosè chiede appunto di dire il suo ma mi dicevi anche un'altra cosa siccome Mosè aveva bisogno intanto lui di tranquillizzarsi sulla capacità di questo qui di mantenere le sue promesse perché non è che questo qui arrivava e diceva io sono Dio ah beh no 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 ogni volta che lui si presentava se anche questo lo trovate tranquillamente delle Biblie non aveva mai lui doveva presentare il suo pericolo la sua carta d'identità cioè lui doveva sempre identificarsi perché lui era uno dei tanti e quindi ogni volta lui doveva dire io sono quello che ha fatto io sono quello che ha comprato io sono quello che tutte le volte doveva fare perché poteva essere uno dei tanti quindi lui ogni volta doveva giustificare per spiegare chi era questo ovviamente non bastava che Mosè gli dice io devo convincere quelli da sotto a seguire te e non gli altri e quindi ho bisogno di essere convinto io ora è chiaro che questo non è un discorso che si fa al Dio unico trascendere ma che si fa ad un governatore locale tra i tanti possibili per dire va bene ok tu mi fai delle promesse però mi bisogna di capire che sei in grado di mantenere e quindi ho bisogno che tu mi faccia vedere quella che nelle Biblie trovate normalmente è la tua gloria e qui vi posso dire veramente ma con grandissima tranquillità che il termine gloria è un termine che è stato elaborato successivamente ma che con il significato originario del termine ebraico proprio il termine ebraico è che molto che significa oggetto pesante e potente dopodiché siccome non si vuole mai accettare ciò che dice ciò che dice la Bibbia e tutti gli esegenti partono dal presupposto che la Bibbia dice una cosa ma in realtà vuole sempre 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 se noi invece facciamo finta che la Bibbia quando si dice qualcosa ci vuole dire proprio quella capiamo un sacco di cose allora dice io ho bisogno che tu mi faccia vedere uno strumento della tua potenza cioè luce in che volta un oggetto pesante potente lui capisce e gli dice va bene ok sappi però che se io ti passo vicino con la mia gloria cioè con le mie volte ti ammazzo non c'è ancora la possibilità se ti passo vicino ti ammazzo quindi prendiamo anche di una cosa che la gloria di Dio uccide uccide se ti avvicina perché la gloria di Dio avrebbe ucciso Mosè a pochi metri non il popolo che era 600 metri sotto quindi a 5-600 metri la gloria di Dio non uccide a 10-15 metri e la gloria di Dio uccide quindi prima constatazione seconda constatazione chiarissima Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria perché dice se io ti passo vicino ti ammazzo non è che io posso limitarlo quindi Dio non è in grado di limitarlo però gli dice però possiamo fare una cosa se non lo avete o non vuoi se tu ti metti vedi quella fratto lì che c'è qui vicino se quando io passo con questa mia rubana tu ti metti dietro le rocce non muori cioè la gloria di Dio uccide uccide se ti passa vicino Dio non è in grado di controllare le effetti un nucleo di rocce sì cos'è? questo è chiarissimo nella Bibbia non ci sono due va bene facciamo così Mosè si nasconde dietro le rocce questo qui passa con la sua gloria cioè con il suo che mod Mosè rimane in vita però gli seduce la faccia tant'è che la Bibbia dice che quando è sceso dal monte doveva velarsi perché non poteva stare al sole con la penna bruciata come aveva e si poteva togliere il pieno solo quando entrava nella penna cioè a norma chiuno si sia preso la scattatura solare sa di che cosa si parla quest'altra cosa io ho detto a Tembaglione anche lì dicembre non so sugli anni di cosa sia successo ma una cosa c'è questo è soddisfatto alla Bibbia è un esatto funzionamento di una cosa che noi conosciamo molto bene anzi che stiamo sperimentando perché l'esatto funzionamento è solo dei motori al plasma dice perché se questi motori avessero prodotto alle azioni non si sarebbe morto comunque invece questi motori al plasma producono microonde per cui se tu ti trovi nel fascio diretto dalle microonde a distanza alla presinata bruci immediatamente se tutti da scordire di fronte non ti colpissero che quando le unici si fa costruire la sua dimora nel deserto dicevano che a coloro che avevano l'obbligo rincarico di occuparsene che dovevano entrare dentro la sua dimora in certi momenti e che per esempio quando arrivava lui con il suo chemode nessuno doveva trovarsi in dentro altrimenti si moriva tant'è che quando entrano i due figli di Aaron per fare questa offerta diciamo così estemporanea ancora una volta a lui non interessano le intenzioni di questi qui ma questi qui entrano sono immediatamente bruciati tutti e due sul collo e la spiegazione sapete qual è scritta nella Bibbia ci sono morti perché hanno fatto una cosa che non gli era stata chiesta non hanno fatto qualcosa di male e quindi subito dopo i versetti dicono che nell'unico dice a Mosè ricorda Aronne che doveva entrare in certi momenti perché doveva allestire certe precazioni ricorda Aronne che non può entrare nella mia dimora colmeod cioè in ogni momento se non vuole morire perché c'erano i momenti in cui se ci si trovava lì si moriva e lui non poteva farci nulla tutti voi riconosciamo gli esiguali che ci hanno studiato che esistono ci sono nella Bibbia eccetera ma non sono quelli che sono stati scritti sulla pietra cioè noi pensiamo che quei dieci comandamenti lì siano quelli che costituiscono il fondamento del giudaismo in realtà l'unico dice chiaramente un'altra cosa i dieci comandamenti che costituiscono il fondamento del giudaismo ve li leggo un attimo scrivi per te a Mosè le parole le queste poiché su bocca di le parole le queste ho contratto con te alleanza e con Israele sono questi i miei comandamenti che costituiscono l'alleanza non contrarre alleanza con gli abitanti del paese non prendere il dono del paese per i figli di sua madre quindi se noi vogliamo rispettare l'alleanza con questo Dio non dobbiamo far volire il capretto nel sangue di sua madre dopo di chi è certo c'è anche non uccidere non desiderare per carità tutto per mantenere il controllo e l'ordine sociale ma non solo quelli che insegnate noi quelli fondamentali per lui per lui quelli fondamentali sono questi qui i miei comandamenti hanno due febrifere in casa proprio in ossepio nel senso che tengono la carne e il latte in due febrifere diversi in modo che non ci sia nessuna possibilità neanche di avvicinamento tra i due questa è una presenzione igienica perché molte malattie virali vengono trasmesse attraverso il latte dell'età pre-femmine e il colostro quindi non mettere assieme queste due cose vogliono dire preservare la carne e contaminazioni e il comandava Eden assieme alla sua compagna l'inconciaggio signora dell'uomo recitato sulla montagna cioè siamo sempre nel piano edel e degli ebrei e con il figlio Minuta in una delle cannolette sumere nel medico di Hanciag c'è un racconto bellissimo dove si dice che questa famiglia quindi il Dio supremo ha rischiato di morire per aver mangiato carne avariata per dire che quindi questa è l'alleanza cioè a questi signori qui che abbiamo già scrivato prima eccetera tutto il discorso morale eccetera credetemi non li ricordavo assolutamente mi ha dice la comunità ebraica di Torino dicono noi dell'aldilà non ne sappiamo nulla perché il nostro Dio non ce ne ha mai parlato non cercate l'aldilà nell'artico testamento non c'è non c'è non c'è gli arug brothers in terciale vellanti qua canali morivano come dice la bibbia morivano come tutti e novri vita nu come l'assemblea La Bibbia le nomina per la prima volta e quando dice che, come ci ha raccontato prima a Viaggio, i figli degli Elohim vengono che i figli degli Adam erano buone, toc, che non vuol dire buone, eh, c'era buonazzo, vuol dire, sì, magari è un po' di lettante, chi lo sa, ma vuol dire adatteate, beh, diciamo, adatteate, esattamente. E la Bibbia dice, in quei giorni sulla terra c'erano i miei figli e anche dopo. Quindi non si può creare un rapporto diretto tra i figli degli Elohim, che se sono uniti con le femmine Adam, e hanno creduto i miei figli. Perché la Bibbia non lo dice. Lo dice che quando loro si sono uniti se sono lette, c'erano sulla terra i miei figli. Su questo termine ci sono due docenti di filologia ebranica, uno, dentro l'Università di Bercio e l'altro, dentro l'Università di Amnistrosi, che stanno discutendo un sacco di tempo sulla vocalizzazione. Perché non si sa bene, appunto, come dicevo prima. Non si ci dà una interpretazione precisa, nei fili deriva dal verbo Nassau, cioè quelli che sono scesi dal cielo sulla terra. In realtà le cose non sono così semplici, sono un pochettino più complesse. Tant'è che questi due stanno discutendo da tempo e discuteranno sull'Università Senza, nel senso che non arrivano a nessun accordo. C'è però una curiosità, che quando i greci hanno tradotto la Bibbia e sono arrivati di fronte a questo termine, loro non si sono posti i problemi psicologici. Tra lato nel filino hanno tradotto l'Igertes, cioè i giganti. Perché, in effetti, in tutta una serie di libri, cronache, Samuele, eccetera, la Bibbia, quando parla di questi esseri giganteschi, che combattevano contro Davide, cioè quelli che erano rimasti, se erano alleati con i filistei, che combattevano contro Davide, dice sempre che questi erano dei giganti, dei figli di Nara-Fa, della stirpe dei Nefilim, dei figli di Anak. I figli di Anak sono gli Anakim, che per assonanza ricordano molto bene gli Anakim che abbiamo sentito prima. Questi Anakim, cioè questi giganti, vengono citati per la prima volta, ne parla la prima volta quando, all'inizio della conquista della terra di Canaan, Giosuè manda un piccolo tappello di esploratori, questi per vedere com'erano i territori, com'erano le città, com'erano armati questi due, eccetera, eccetera. Questi esploratori tornano e dicono, beh, là abbiamo visto che ci sono questi, 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 Giosuè, dice ma abbiamo visto che ci sono ancora i figli di Anakim. E questo li ha terrorizzati perché dicono, noi al loro cospetto ci vedevamo come locuste e loro vedevano noi come locuste. Ma non in termini numerici, perché loro erano cinque gatti che sono andati a fare questa. Tant'è che loro in termini di statura, tant'è che loro dicono, quindi non andiamo a combattere contro quelli, perché ci massacrano. Lì ci sono ancora i giganti, quindi non andiamo a combattere. Quando Davide combatte contro questi qui, e questi qui a un certo punto erano stati per conquiste precedenti da parte dei giudici relegati in tre città in Israele, quindi erano in queste tre città, se non lo vedo che abbassare lo stesso concorso di queste città, se tende a dire roba da 7-200 di tanti, li hanno relegati in queste tre città, questi si sono lì dove i filistei combattivano contro Davide. In una delle battaglie, la Bibbia dice, esattamente, che stavano combattendo con questo qui, che proveniva dalla città di Gat, e dice che era un gigante e aveva sei dita per ogni altro. E dice la Bibbia, cioè dice l'autore biblico, per essere sicuro che il lettore capisca, 24 dita in tutto. Comunque c'erano dei giganti esalati, che erano ancora presenti al tempo di Davide, quindi siamo intorno ai 1000 avanti Cristo. Allora, Davide sta combattendo con questo qui e in due situazioni succede una cosa curiosa. Davide non sa cosa fare, si trova in difficoltà, vede che sembra quello che si sposte in una gente a direzione e lo richiede al suo capo che cosa fare. Il suo capo è l'erogine che conosciamo. Allora scrive all'erogine, ad uno degli addetti al trasporto di un oggetto particolare, che adesso voi vi spiego, e gli dice vieni un po' qui, portami le foglie. Quando quello gli si avvicina con le foglie, che portava a tracolla, Davide parla con il suo capo che stava da un'altra parte. Solo dopo che quell'oggetto gli è stato portato. In un'altra situazione, dice sempre allo stesso Vietà, che era quello che accompagnava Davide nelle battaglie con questo oggetto a tracolla, gli dice avvicinami le foglie e solo dopo che le foglie gli è stato avvicinato, lui può parlare con gli Elohim e gli dice senti, qui sta succedendo questo, cosa devo fare? E lui gli dice fai così, così e così. Questo foglie era un oggetto che Yahweh ha fatto con uno dei tanti, che Yahweh ha fatto costruire quando era nel deserto, che era fatto da un pettorale che aveva 12 pulsanti, cioè 12 pietre colorate, una spagliera che aveva qui sopra due grandi pulsanti, scendendo una fascia che non legava più davanti e che rimane e lo teneva fermo e lo militare. E c'erano degli addetti apposta a portare in fondo, non potevano portare qui. ed era uno strumento attraverso il quale Davide parlava con gli Elohim. Chiunque abbia fatto servizio militare questa scena l'ha vista un sacco di volte. Il tenente capitano che dice ad un arconista vengono qui con la radio. Questo ce l'ha sempre a spalle, sta sempre nelle vicinanze col comandante, è sempre a disposizione. Se questa roba non fosse scritta nella Bibbia, nessuno di noi avrebbe difficoltà a dire, a pensare che si tratta di un normalissimo sistema di comunicazione dell'arte. Siccome è scritto nella Bibbia si parte dal proprio posto che non può essere vero. Io faccio finta che sia vero. Mi chiedo di fare finta con me per 20 minuti e dopo di dire tornate a pensare voi che pensate lì. Davide fa così, chiamano l'Erin, l'Erin arriva, perché Davide lì era veramente in difficoltà, arriva cavalcando un cherubino, prende Davide, lo porta via, lo porta in salvo e mentre sale, dice la Bibbia, fu visto volare in prostottina sulle ali dell'Uroach. Mi sparo subito la stupidanza del cosiddio che lo può. I cherubini sono delle macchine. Su questo non ho nessun dubbio. Attenzione, siete chiari. Io non so e non me ne occupo dei cherubini delle corte angeliche, trovo in potenza di un'azione di un'angela, di un'angela, di un'angela, di un'angela, Non me ne occupo. Quindi non so nulla. Non fatevi domande su quello. L'unica cosa che dico è che i cherubini delle corte angeliche, con i quali la gente colloquia, eccetera, non sono i cherubini della Bibbia. Esistono, ma sono un'altra cosa. E io non me ne occupo. Io vi racconto dei cherubini della Bibbia. Allora, ok? Quindi, chi è che si parla di questi cherubini della Bibbia? Qui, dove se ne descrive un utilizzo. E se ne parla a Zegniele. Da onde si parla del primo capitolo di quella che è la visione più famosa di cui in base non vi avete sentito parlare tutti, quella insomma del cavolo di Dio che scende e che lui vede. Allora, dice, gli arriva questo cavolo celeste dentro un momento di tempesta. Sotto questo cavolo celeste lui vede quelli che lui chiamano i haïm, cioè i viventi, che sono degli elementi che lui dice avevano una ruota a fianco, avevano un piede piatto come quello del vitello. Sono arrivati con il cavolo di Naoué quando si muovevano anche indipendentemente muovendosi a zizzago o lucendosi i lampi di luce e avendo una ruota che girava nelle varie direzioni senza bisogno di girare. Sulla descrizione di questo capitolo la NASA, l'ingegner Brunrich, ha ricostruito il cavolo di Ezechiele. Questa ricostruzione qui tiene conto del capitolo 1 di Ezechiele che è una cosa che fanno normalmente tutti, diciamo anche gli ufologi di professione che dicono giustamente gli Ezechiele di Suvarota che arrivano a Marcella, eccetera. Non sbaglio che secondo me talizionalmente si fa, ma diciamo io da questo punto di vista non è che sono più bravo che ce ne sono stato più fortunato che dovendo tradurre letteralmente come dire ogni singolo termine mi rimane più impresso quindi poi si parla qualche cosa per cui lo dice da quello che si è scritto qui in realtà è quella roba che si è scritta anche là non tiene conto della vera descrizione di queste parti qui sotto che sono quelle cose che le voi chiamano nel capitolo 3.10 che rubinino. La ruota è vero c'è c'è anche il piede piatto che si arriva appunto per posizionarsi a terra ma il zettiere nel capitolo 8.10 ci racconta di un evento dove dice che arriva il carro di il zettiere il carro di Eureo si sposta nel cortile interno del tempio si ferma il carro si alza e i perubini rimangono lì il carro va dentro il tempio quelli dice il zettiere quelli che sono nel portile esterno non vedono i perubini ma sentono il rumore che fanno le loro ali il carro si rialza supera la soglia del tempio si porta sopra i perubini quando è sopra i perubini i perubini aprono le ali si alzano si ricollegano escono dal tempio si posizionano in Gerusalemme e tutt'assieme di Bartolo vanno sull'altura che è l'oriente di Gerusalemme ma vanno in altro sistema di rumore di cui qui non so beh si so perché perché ovviamente ha tenuto conto solo nel capitolo 1 che Zettiere dice quando sono scesi da questa nuova qui sei individui dice che parlavano parlavano con loro e dice Zettiere ho sentito che quelle ruote che erano inserite una dentro l'altra loro richiamano Galgal nelle vostre traduzioni che avete troverete sempre scritto io ho sentito che chiamavano quelle ruote cerchio che è una banalità incredibile perché chiamare una ruota cerchio nella data Galgal quindi in quel casolino del Galgal dei Sumeri significa elemento o ruota che gira rapidissimamente cioè significa una ruota che turbina quindi se noi dovessimo tradurla come un termine da vostro dovremmo dire un sentito che chiamavano turbina grazie allora voi vedete questo personaggio saluto qui questa è la statualità la saluta a regno di allora non ci sono ancora pronunciamenti definitivi questo va detto né sul fatto che sia vera né sul fatto che sia falsa sul fatto che sia falsa soprattutto nessuno si è pronunciato perché in effetti tutti gli studi che sono stati fatti anche sulla composizione la rimanda a quel periodo però siccome nessuno studioso accademico può dire che 3000 anni fa c'erano queste navette perché viene cacciato subito dalla comunità universitaria nessuno dice che era però è il museo di Istanbul quindi c'è questo personaggio che sta seduto un po' come se sta a cavallo cioè esattamente come la Bibbia dice che Yarek cavalcava i perubini ci sono qui dietro le ruote concentriche come se fossero inserite una nell'altra esattamente come dice Zekieve questo è sicuramente l'oggetto che più si avvicina alla descrizione dei chiamini della Bibbia cioè oggetti che si muovevano sia attaccati al kerot sia indipendentemente che venivano usati standoci seduti sopra a cavalcioni è un periodo di un altro quindi siamo alle faglie del monte a Ararat qui siamo intorno a 1000 avanti Cristo cioè nel periodo di cui stiamo parlando tra l'altro dopodiché tutta la teologia che cosa ha elaborato ha elaborato il fatto che tutto l'Antico Testamento è finalizzato alla figura di Cristo lo sappiamo a partire dal peccato originale che qui spiego che non c'è quindi possiamo stare tranquilli non c'è il peccato originale lo spiego in accordo con Amos Luzzatto uno dei più importanti biblisti ebrei comunque tutta la storia della salvezza nasce come un inesistente peccato originale per poi arrivare a Cristo che porta la redenzione per tutti quindi tutto l'Antico Testamento è finalizzato la figura di Cristo comprese le profezie sempre ripeto attribuite a posteriore eccetera perché mai gli autori dell'Antico Testamento hanno pensato a quella figura ma la cosa più curiosa qual è l'ultimo libro dell'Antico Testamento è il libro della Sapienza ed è un libro nel quale si dice Dio mi ha trasmesso dice quindi l'autore tutta la sapienza dell'universo tutta la sua sapienza qual è la curiosità e il libro della sapienza non parla di Gesù Cristo ma qual è la curiosità è che il libro della sapienza lo stavano scrivendo mentre Gesù Cristo era lì e hanno finito di scriverlo tra i 10 e i 15 anni dopo la morte e presunta risurrezione di Gesù Cristo quindi il libro dell'Antico Testamento che contiene tutta la sapienza di Dio che è stato scritto diciamo 15 anni dopo la morte di Cristo non sa che il figlio di Dio è arrivato ha predicato è morto è risorto e ha portato la salvezza al mondo quindi lo sanno tutti meno che la Bibbia che sarebbe quella che invece ha preparato tutto perché lui arrivasse questa roba qui eh